Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Conti correnti bloccati anche in Veneto, precisamente a Verona per la Lega Nord, a darne notizia il segretario provinciale di Verona Paolo Paternoster che in un comunicato ha spiegato che dopo il provvedimento di ieri su indicazione della procura di Genova in sei conti correnti della Lega Nord, in sei diverse banche in Emilia Romagna, Liguria e Trentino, Oggi il blocco è arrivato anche in Veneto, come avete sentito a Verona e Lombardia. Conto bloccato dice è un atto ignobile, vogliono sabotarci a dichiararlo Paternoster che stamane si è recato nella filiale bancaria dove la Lega Veronese ha il conto. Ha spiegato, ho chiesto con quale motivazione ma non mi è stata data risposta, ho chiesto di poter visionare perlomeno coppia del provvedimento con la quale il banco BPM ci nega la disponibilità dei nostri fondi e ha concluso dicendo che non c'è stata nessuna risposta. Se pensano di spaventare o fermare la Lega Nord si sbagliano, non esiteremo a segnalare a tutte le competenti autorità tale omissione, denunciando l'accaduto. Parliamo di una tragedia sul lavoro avvenuta oggi nel Bellunese, un uomo di 57 anni è morto a Santa Giustina, travolto da un camion mentre con una gru stava scaricando legna. L'uomo stava scaricando il carico nelle pertinenze di un'abitazione utilizzando un braccio meccanico. Nello spostare i pesi il mezzo si è arrovesciato, travolgendolo. Nonostante i soccorsi, il personale medico del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno recuperato la salma e provveduto a raddrizzare il mezzo. Sul posto la polizia stradale e personale dello Spisal. E adesso torniamo a parlare dell'inchiesta Mose, condanne, assoluzioni e prescrizioni nella sentenza di ieri. Allora sentiamo un sunto del giudizio del Tribunale. Non sono un corrotto, ma io ho ricevuto denaro, né favorito alcuno. Lo dice il senatore Altero Matteoli, ex ministro condannato a quattro anni di reclusione a oltre 9,5 milioni di euro di multa per corruzione nell'inchiesta Mose e annuncia il ricorso in appello. Nei confronti di Matteoli sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, nei quali, da molte fonti politiche, viene descritto come una persona seria e leale. Esce illeso dal processo, invece, per assoluzione o prescrizione di parte delle vicende ascritte, l'ex sindaco Giorgio Orsoni, che era accusato di finanziamento illecito ai partiti. Sono usciti dal procedimento, perché assolti o per prescrizione, anche l'ex presidente del magistrato delle acque, Maria Giovanna Piva, l'ex presidente del Consiglio regionale del Veneto, Amalia Sartori, e l'architetto Danilo Turcato, che aveva curato i lavori di restauro della villa, già di proprietà di Giancarlo Galanna, ex governatore del Veneto, che aveva patteggiato la pena. Condannato, invece, l'imprenditore Nicola Falconi a due anni e 78 mila euro di multa, Corrado Crialese a un anno e dieci mesi e mille euro di multa, pena sospesa, e l'imprenditore Erasmo Cinque a quattro anni e nove, cinque milioni di euro. Tutti i condannati si sono visti interdire a diverso titolo i pubblici uffici, a pagare le spese processuali e a risarcire le parti civili. Il giudice ha disposto delle provvisionali, sino a un milione di euro, rimandando la multa in sede civile. E se, come avete sentito nel servizio, da alcune parti politiche è stata espressa solidarietà a Matteoli, dura invece la presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che chiede le dimissioni dalla sua carica di presidente della Commissione Lavori Pubblici al Senato, quale, dicono, atto dovuto di dignità e di evidente responsabilità politica. Restiamo ancora su questo argomento, perché all'indomani della sentenza è stato fatto un comunicato dai legali di Galan. Sentite cosa dicono. Sull'esito del processo per l'inchiesta Mose sono intervenuti i legali di Galan. Le plurime assoluzioni pronunciate nel processo Mose dal Tribunale di Venezia, in particolare quella dell'onorevole Sartori e dell'architetto Turato, dimostrano ancora una volta, dicono, la fragilità e inconsistenza dell'impianto accusatorio nei confronti di Giancarlo Galan. Lo affermano in una nota i legali dell'ex presidente del Veneto. Se Galan avesse potuto anche egli affrontare il processo, spiegano i due avvocati, vi sarebbe certamente stata soluzione analoga, vista la evidente inattendibilità delle fonti d'accusa. Anche alla luce di tale decisione, dunque, sarà necessario verificare ogni possibilità di revisione del processo per poter finalmente dimostrare l'inconsistenza dei fatti e comunque la sua estraneità. Proseguono le indagini per ricostruire la tragedia che ha provocato la morte della famiglia Carrerra di Meolo alla solfatara di Pozzuoli. La Procura vuole ricostruire l'intero incidente e capire in che modo la sicurezza venisse garantita ai visitatori. In un primo momento era stata diffusa la notizia che la piccola vittima avesse superato una staccionata, ma a quanto pare la zona non era delimitata. C'è un testimone, una donna, che ha visto l'intera scena e conferma che non vi sarebbero stati comportamenti azzardati da parte del bimbo. Leggero miglioramento, ma rimangono gravi le condizioni del giovane rimasto ferito nel tragico scontro a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, qualche notte fa. Uno schianto tra l'auto sulla quale il 24enne di Marostica viaggiava con due amici rimasti uccisi e un camion. Intanto proseguono le indagini per ricostruire le cause che hanno provocato l'impatto tra i due mezzi. guidava a 95 anni senza patente e con qualche difficoltà. La polizia locale lo ha pizzicato contro mano nel centro cittadino di Vicenza. Visionando i documenti, gli agenti hanno verificato che la patente gli era stata revocata oltre un anno fa. Il mezzo è stato sottoposto a fermo e nei confronti dell'anziano è scattata una sanzione pesante. Molte volte abbiamo parlato di un problema che travolge il territorio dei colli euganei, quello dei cinghiali. Purtroppo il Veneto non è la sola regione d'Italia a farne le spese e viene lanciato un appello al governo. Il problema cinghiali sulle aree dei colli rimane un'emergenza e le regioni non hanno sufficienti strumenti normativi per affrontarle. Ogni giorno i danni provocati da questi animali aumentano a farne le spese sono le colture agricole, ma non mancano gli incidenti nei quali rimangono coinvolte le persone. Gli assessori alle politiche agricole delle regioni italiane fanno appello al governo perché adotti un piano specifico e urgente per affrontare su scala nazionale un problema ormai fuori controllo. A Bari l'argomento è stato affrontato dalla Commissione Politiche Agricole delle regioni e delle province autonome. Il tema non più rinviabile dell'emergenza fauna selvatica che non si limita più ai danni causati alle colture, ma che ormai si è trasformata in una problematica di sicurezza pubblica. Il proliferare delle popolazioni di alcune specie, in particolare del cinghiale, rappresenta un pericolo concreto per l'incolumità pubblica e, in molti casi, ha avuto risvolti drammatici in altre aree della penisola, riassume l'assessore del Veneto. Le regioni e le province autonome hanno più volte sollecitato il governo su questa tematica, ma ad oggi non hanno ottenuto risposta. Eppure, spiega l'assessore Veneto, è in gioco la pubblica incolumità con il rischio di ulteriori perdite di vite umane. Non disponendo di strumenti normativi idonei per affrontare l'emergenza, conclude l'assessore, le regioni hanno chiesto al governo l'adozione di uno strumento specifico e urgente che, tenuto conto dell'eccezionalità della situazione, permetta di affrontare la questione con misure adeguate. Uno dei sette tunisini identificati nel magazzino dormitorio di Canareggio a Venezia lo scorso 12 settembre è stato accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta a seguito del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto per il tempo strettamente necessario all'organizzazione del rimpatrio. L'uomo, 31 anni, già destinatario di un provvedimento di espulsione, martedì era stato denunciato per aver fatto illegalmente rientro nel territorio italiano e conseguentemente è stato arrestato. E c'è stato anche un altro rimpatrio coatto per un cittadino del Bangladesh. L'operazione è stata eseguita dal personale del commissariato di Jesolo in collaborazione con l'ufficio immigrazione della Questura. L'uomo è stato accompagnato all'aeroporto di Venezia che è imbarcato su un volo della Turkish Airline. Lo scorso primo febbraio questo soggetto, a seguito di un normale controllo, era stato trovato privo di un valido titolo di soggiorno in Italia e conseguentemente era stato accompagnato per essere identificato negli uffici di polizia. Dopo aver accertato la sua irregolarità, lo straniero era stato munito di decreto di espulsione contestuale ordine del questore di Venezia, alternativo al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri con cui si disponeva la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora a Jesolo e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Questa mattina inaugurazione a Dabano di due nuove aule per l'istituto scolastico Pietro Dabano, un lavoro finanziato dalla provincia con 180 mila euro e terminati questi lavori nei tempi previsti, un esito che è stato presentato alla cerimonia con grande orgoglio. Giornata importante per il futuro dagli studenti dell'istituto Pietro Dabano, consegnate le due nuove aule che la provincia di Padova ha realizzato nella succursale dell'istituto alberghiero di via Monterosso a Dabano. All'inaugurazione erano presenti il presidente della nuova provincia di Padova, Enoch Soranzo, il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Luciano Salvò, il sindaco Federico Barbierato e il dirigente scolastico Carlo Marzolo. Qui il ringraziamento in primis va alla provincia di Padova, il presidente Soranzo, che ha mantenuto la promessa. Noi siamo contenti perché questo istituto alberghiero ha una storia molto importante e attraverso anche questa consegna di aule che saranno attrezzate a livello tecnologico alla guanguardia credo che consolidiamo la grande esperienza di questo istituto alberghiero che sforna professionisti per tutto il mondo della ristorazione, del turismo e quindi a maggior ragione in questo periodo dove il turismo è il nostro volano per eccellenza anche queste operazioni hanno un'importanza fondamentale per rilanciare il territorio e per far sì che anche le istituzioni possano proficuamente collaborare. Oggi era il primo passo, il primo intervento che dava una risposta immediata consegnare degli ambienti nuovi a un'eccellenza come quella del Pietro Davano era assolutamente non solo necessario ma doveroso. Adesso la sfida è da qui a 15 giorni consegnare quella che è la giudicazione dell'incarico della progettazione definitiva e esecutiva del secondo intervento 1.310.000 euro che si aggiungono a questo investimento di circa 200.000 euro per un totale di 1.5 milione di euro che viene rivestito su una struttura su un patrimonio non solo edilizio ma soprattutto quello dei nostri ragazzi del nostro patrimonio scolastico della nostra eccellenza che ci viene riconosciuta anche in questo ambito e quello alberghiero io penso che sia questo che l'alzare del territorio si aspetta sia questo che i genitori e i ragazzi si aspettino e noi speriamo di continuare su questa strada di dare risposte concrete con l'apertura di cantieri e consegna soprattutto di cantieri che diventano nuove opportunità di sviluppo e di crescita per i nostri ragazzi questo rappresenta una soddisfazione nel difficile percorso che mira a prestare costante attenzione a tutte le strutture scolastiche di competenza della provincia sicuramente sono realtà in costante in costante movimento vengono vissute quotidianamente da ragazzi che ovviamente mettono a dura prova tutte quante le strutture però l'attenzione dei tecnici e dell'amministrazione provinciale è massima l'obiettivo è quello di garantire per quanto possibile oltre ogni ragionevole dubbio gli elementi di sicurezza e soprattutto anche gli ambienti adeguati per un tranquillo esercizio dell'attività didattica grazie a un finanziamento ormai acquisito un dato dalla fondazione Cassa di Risparmio e cofinanziato dalla scuola per un importo di circa 100.000 euro totali verranno acquistati degli arredi per una didattica innovativa ce li immaginiamo aggregabili per lavori di gruppo naturalmente distribuibili nella geografia di una classe tradizionale impilabili in modo da poter liberare lo spazio quindi davvero un cambio un po' di paradigma didattico e di questo già questo è un polmone per una scuola di attività che si possono creare c'è tutta la voglia da parte dei docenti spesso è impossibile fare e poi una dotazione tecnologica molto avanzata questo è anche il motivo per cui abbiamo atteso a fare definire il bando completamente per farli proprio sulle ultime possibilità tecnologiche quindi al di là della possibilità di proiettare videoproiettori e schermi giganti una dotazione di notebook collegati a una postazione centrale in modo assolutamente interattivo molto legato alle attività di formazione linguistica anche con dotazione di cuffie wireless per cui addirittura potrebbe essere un si chiama un laboratorio linguistico mobile perché volendo si parte da qui e si va nel territorio comunicando in lingua straniera e col supporto di questi tablet interattivi tre persone sono ricoverate all'ospedale per aver contratto la malaria e sono due all'ospedale di San Donà e uno a Porto Gruaro si tratta di pazienti che hanno contratto il virus nel loro paese e hanno accusato i sintomi una volta giunti in Italia due di loro arrivano dalla Burkina Faso e un altro dalla Costa d'Avorio la loro situazione sarebbe comunque sotto controllo ricordiamo che la malaria non si trasmette da uomo a uomo ma da zanzara a essere umano si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP Luciano Gorra e quattro addetti alle celle mortuarie del Policlinico Borgo Roma arrestati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla concussione per presunte tangenti che sarebbero state chieste alle imprese di onoranze funebri per conservare in modo adeguato le salme all'obitorio c'è un quinto indagato che al momento è fuori città al suo rientro a casa lunedì riceverà l'ordinanza di custodia ai domiciliari per le indagini sono stati raccolte numerosi elementi con intercettazioni ambientali e con telecamere restiamo ancora a Verona dove i carabinieri hanno arrestato una donna di 46 anni senza fissa dimora e con precedenti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Verona nei giorni scorsi per rapina la signora aveva rubato un cellulare e le chiavi dell'abitazione ad un uomo con problemi psichiatrici chiedendogli poi in cambio della restituzione del maltolto che effettuasse 5 prelievi di denaro al bancomat per 440 euro ora si trova nel carcere veronese di Montorio e adesso come ogni venerdì l'appuntamento è con l'approfondimento dedicato alla storia allora sentiamo l'esperta la voce di Marisa Sottovia ben ritrovati con la storia oggi parliamo di pastorizia e di lana e ci rifacciamo a quella che è stata la festa che si è appena conclusa nel comune di Fozza della provincia di Vicenza che fa parte dell'alto piano di Asiago un comune di appena 700 abitanti a un'altitudine di 1080 metri ed è di una straordinaria bellezza paesaggistica la pastorizia fu importante per questo comune e ce lo dice lo stemma del paese stesso e poi anche per quella che sono stati i prati che hanno alimentato le greggi nei secoli che hanno fornito lane pregiate all'industria tessile della pianura la storia della pecora di Fozza viene da lontano si chiamava pecora Vicentina e Fozza è ritenuta la culla appunto di questa razza in questa zona arrivarono altre tipologie di pecore quella di Lamont del Belunese e anche la pecora di Alto Altesino in provincia di Trento c'è stato un momento che ha rischiato l'estinzione perché se nel 1700 circa c'era 200.000 esemplari dopo due secoli gli esemplari sono stati ridotti a 9.000 quindi il rischio era molto elevato ma quello che è stato importante della storia della pastorizia fu il rapporto con la pianura dove si staura uno stretto legame commerciale soprattutto con i lanifici e soprattutto quelli di Schio dove appunto divennero celebre i cosiddetti panni di Schio e Schio divenne il primo distretto preindustriale laniero a livello internazionale quindi un'economia importante per la pianura ma anche per i nuclei familiari della zona in quanto la pecora la pastorizia forniva latte per l'alimentazione poi la lana per coprirsi carne e quando parliamo di latte formaggi e si porranno da questo momento le basi per quello che sarà il famoso formaggio asiago che è conosciuto a livello mondiale quindi un'attività importante che si svolgeva soprattutto il regime estanziale e transumante transumante era il più diffuso perché nevicava molto un tempo quindi si coprivano i prati di neve e i pastori erano costretti a trasferirsi in pianura con le greggi circa 4-5 mesi all'anno e si trasferivano in base a quelli che erano gli usi del tempo chiamati pensionatico si trasferivano nelle zone vicentine barbarano camisano ma anche nelle zone appunto del padovano quindi tornando poi a quella che è stata la festa di fozza è stata così rievocata tutta la tutte le fasi della lavorazione della lana a partire dalla tosatura dal lavaggio poi ancora dalla cardatura dalla tessitura insomma tutte le varie fasi che portano poi al filato alla lana molto interessante seguita da famiglie da bambini che magari non hanno mai visto le pecore o la tosatura addirittura quindi una grande festa che ha il merito di revocare secoli di attività e di economia importante non solo per forza ma per tutto l'altipiano grazie a Marisa Sottovia per l'approfondimento dedicato alla storia adesso invece parliamo di clima lo facciamo con un servizio realizzato da Gioele Sorato sentiamo l'autunno è ormai alle porte e non ha mai bussato con così tanta aggressività quanto quest'anno ormai non si fa più il graduale cambio di vestiti determinato dal freddo che aumenta e dal caldo che lentamente ci saluta ma bensì passiamo da infradito a cappotti invernali e sciarpe nel giro di due giorni agosto ha messo il punto a quella che è stata un'estate davvero ballerina con frequenti acquazzoni che hanno colpito soprattutto la pianura padana dando spazio ad un settembre che si è subito presentato con la prima settimana di piogge giornaliere e sembrerebbe solo un assaggio di quello che passeremo quest'inverno il clima di fine settimana rispecchia questi presagi infatti una vasta area di bassa pressione in approfondimento sull'Europa centrale convoglia sulla nostra regione correnti umide atlantiche ed alcune fasi di tempo instabile il cielo sarà spesso molto nuvoloso con fasi di precipitazioni fino alla prima parte di domenica in seguito la nuvolosità lascerà spazio a tratti più ampi di cielo sereno e saranno meno probabili le precipitazioni temperature relativamente basse per il periodo abbiamo sentito dunque cosa aspettarci dai prossimi giorni a livello climatico sul Veneto noi siamo arrivati al termine di questa edizione ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti